sembra che clizia in corvaia fatichi parecchio a digerire la relazione con antonella che edoardo ostenta sui social d'altronde clizia aveva già manifestato un certo prurito per la loro relazione e per la stessa antonella che aveva definito arrogante edoardo donna maria e clizia in corvaia hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social sembra che l'amicizia sia finita definitivamente tra i due che fino a poco prima dell'ultimo grande fratello vip si frequentavano insieme a micol sorella di clizia e a paolo ciavarro d'altronde la conduttrice influencer ultimamente non aveva nascosto una certa disapprovazione per la storia che donna maria ha intrapreso con antonella fiordelisi e per il modo in cui aveva raccontato il suo rapporto con micol in parte si direbbe che c'entri la sorella che ancora dentro la casa ma in generale pare che clizia in corvaia fatichi parecchio a digerire la relazione con antonella che edoardo ostenta sui social a pochi giorni dall'incontro dei donna li si fuori dalla casa edoardo e clizia hanno smesso di seguirsi su instagram lei aveva già manifestato un certo prurito per la loro relazione e per la stessa antonella che aveva definito arrogante per accrescere l'ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei strato ha sputato nel piatto in cui ha mangiato ha ridotto la loro storia a meri incontri fisici si è sfogata clizia qualche giorno prima ai microfoni di casa chi stando a quanto ha raccontato dopo la sua uscita dal gfvp edoardo sarebbe passato dè a casa loro per incontrare paolo ciavarro con il quale è molto amico io ovviamente l'ho salutato ma hanno parlato tra loro maschietti era un po provato l'ho visto molto preso si è limitato a dire grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.